E siamo qua, su Paladins. Aspetta, cosa? Perché quest'intro... Perché è così? Stai registrando, vero? Assolutamente sì. Allora, vi spiego la storia. Praticamente abbiamo tra le mani un'occasione bellissima, ovvero, prima stavamo giocando a Brawlalla col Doc e mi è venuta in mente un'idea. Ma se usassi il controller per giocare a Paladins, con gli account smart, giusto per non sfangare di merda, i nostri account veri, cosa potrebbe succedere? E quindi eccoci qui a provarci con il controller che io dell'Xbox e lui del PlayStation 3. Che in realtà funziona come quello dell'Xbox perché... Ah, che caracca! Esattamente. Insomma, vogliamo capire l'ebbrezza che si prova a giocare con un controller su Paladins. Cioè, l'ebbrezza nel senso che devi essere ubriaco per giocare con un controller. Ma questo controller mi dà l'impressione di un coso che sta per spaccare. E' stato in mano a mio fratello fino adesso, quindi non... Senti un po', non è tanto quello il fatto che ho provato a mirare un attimino, ma non mi ci trovo. Non so come faccio, non so... Eh, inizi a cercare, stronzo. Ah, bene. Vuoi fare cosa? Tu vuoi fare cosa? Ah, voglio dire, è fortissimo. Domani. Forte. Ciao, Tyra che va al contrario. Della serie usiamo gli splash con il controller che sicuramente non devi mirare quando porca puttana è più difficile di più di qua. Aiuto. Mi sento... Cioè, siamo tornati praticamente a... Come si dice... Alla prima partita mai fatta su questo gioco. Solamente peggio. Perché io, signorino mio, sono 1-3. Tutto ciò è molto sbagliato. E mi dimentico se... Ma porca, ma porca, ma porca. Ma io l'ho fatto forino. Non so sparare ma... Quattro figlio ne hai fatto? Una... Slade proprio. Ah, ok. Stavo per farne uno. No, ma che cazzo ho fatto di me. Ho fatto una slave, ma da faca. Oh, cazzo no, due Slade. Oh, sono morto. Ma prima di mo... Ah, è arrivato anche Avon. Come dovrei essere io a avere la top play? Coso? Facciamo un patto. Mai più. Oh, signor. E direi che per questo esperimento è tutto. Vero, Paco? Sì. Comunque mi stavo divertendo. E direi che per questo esperimento è tutto. 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 Grazie.